Musica 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 Il matrimonio, il fecello, il figlio, il figlio, il figlio, il figlio, il figlio, il figlio. Il matrimonio, il figlio, il figlio, il figlio, il figlio. Il figlio, 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 il figlio. Bene, grazie. Il primo pezzo l'avete già presso eseguito, adesso ci diranno quali altri pezzi che sono. Da questo gruppo ascoltiamo Ave Verum di Mozart, Anai Schpeier di Gassner e Fratello Sole di Ortolami. Dirige Fiorella Borbero Giovanni. Grazie. 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 Grazie.